Ciao ragazzi 16 dicembre è uscita questa crema della Aveda è una crema riparatrice trattamento senza risciacquo per i capelli qua non c'è scritto sul foglietto però se leggete dietro c'è scritto per i capelli senza risciacquo e protegge i capelli dalle alte temperature quindi usate questo e almeno dovreste poter usare anche la piastra senza farvi danni e con questo è tutto ciao alla prossima grazie a tutti